Siamo con il mister Maurizio Lauro, la vigilia di Campobasso Sam. Mister, che partita si aspetta? Una partita difficile, andiamo a affrontare un avversario importante per la categoria, quindi un avversario che comunque è una buona squadra come la nostra. Sarà una partita bella, ricca di pubblico, avremo anche un grande esodo da parte nostra, di tifosi come sempre, quindi dovrà fare una partita bella sicuramente. Si respirerà un po' un'area di professionismo, no? Una partita che c'entra poco con la Serie D. Sì, no, sicuramente due piazze importanti per la categoria, due piazze che hanno un poco a che vedere con questa Serie D, quindi una cornice di pubblico importante per una sfida di alta classifica. Come ci arriva la squadra dopo le due partite importantissime contro Chieti e l'Aquila, dove si poteva ottenere anche punteggio pieno? Ma sì, arriviamo bene, arriviamo bene, recuperiamo i due squalificati, ancora infortunati no, però comunque ci arriva bene, ci arriva con entusiasmo, con la testa giusta, quindi sicuramente ci faremo trovare pronti. Doviti da l'infermeria? No, no, Simone e Federico ancora non l'hanno recuperato, quindi sono ancora fermi in box, allora rientrano i due squalificati della partita scorsa, quindi dai, siamo, siamo, siamo. Grazie, vi stiamo in bocca al luogo. Grazie. Grazie.